Eccolo Rafa, chi si accende, fa la per... Eeeh! Il Fondi Lottos! L'ha chiamato Paolo, 1-0 Milan. E de gole, de gole, de gole, de gole! E de gole, de gole, de gole! E andiamo! Caro Mario... E andiamo! Girù va, lui, rete, il rete perfetto di Oli, 2-0. E te, 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 te! Mi Girù la testa! Girù, Girù! nove gol in campionato e il nonno gol in campionato di Oliviero Buon Berbero Pulisic la dà a Ciaka entra in area di rigore Ciaka destro Adesso si è finita Adesso si Adesso si Ciaka chi? Ciaka là? Ciaka? 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 3-0 3-0 Quello là che aveva detto che non era finita 3-0 3-0 Ciaka Adesso è finita 3-0